L'incontro fissato per domani alla Regione è stato rinviato alla prossima settimana per l'assenza di uno dei funzionari. A renderlo noto è la rete delle associazioni Ionica, che scrive in una nota. L'audizione presso la sesta commissione regionale Servizi Sociali e Sanitari in seno all'Ars è stata rinviata poiché il dottor Chiaro, dirigente generale dell'assessorato regionale alla salute, è impegnato presso il Ministero di Roma. Chiaro ha chiesto infatti al presidente della commissione regionale, il dottor Di Giacomo, di essere presente all'audizione programmata per domani e quindi lo spostamento dell'incontro alla data in via di definizione. La rete valuta positivamente tale differimento, considerandola come un segnale di attenzione degli organi regionali, tecnici e politici rispetto alla problematica riguardante il nostro presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro. Conclude la nota.